domanda girolo ma savonarola nelle opere ha scritto il dio cerca da noi un culto interiore senza tante cerimonie e così nella primitiva chiesa si servava che gli cristiani allora intanto vacavano allo spirito che non si ricordavano delle cose mondane e non gli bisognava canti né organi allevare la mente loro in alto ma poi mancando il fervore si cominciarono a introdurre le cerimonie e il culto esteriore cominciò a dilatarsi ordinato dagli santi per medicina delle anime inferme è vero risposta è vero che quella creatura era un mistico e come tale non poteva concepire un dio al di fuori di lui domanda girolo ma savonarola nelle opere ha scritto il dio cerca da noi un culto interiore senza tante cerimonie e così nella primitiva chiesa si servava che gli cristiani allora intanto vacavano allo spirito che non si ricordavano delle cose mondane e non gli bisognava canti né organi allevare la mente loro in alto ma poi mancando il fervore si cominciarono a introdurre le cerimonie e il culto esteriore cominciò a dilatarsi ordinato dagli santi per medicina delle anime inferme è vero risposta è vero che quella creatura era un mistico e come tale non poteva concepire un dio al di fuori di lui grazie 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 grazie